Ciao a tutti, oggi registrerò il video dei prodotti mangerici terminati del mese di ottobre e sempre in collaborazione con la mia carissima amica Erika Ciao tesoro, ti mando un grandissimissimo bacione qui su youtube la trovate col nome di Erika Iten 1986 comunque è una ragazza dolcissima con cui collaboro ogni mese appunto per fare questo video dei prodotti mangerici terminati e questa collaborazione va avanti ormai da qualche anno quindi sono felicissima sempre di questo ti abbraccio forte tesoro e iniziamo col bustone che prima si vedono i prodotti e poi arriva lui guardate sempre il solito e sempre strapieno io ogni volta che devo registrare questo video sono felice perché almeno libero l'angolino della mia camera iniziamo subito con il primo prodotto che ha dentro di sé altri due prodotti per recuperare un po' di spazio allora ho terminato questo passato di verdure dimmi di sì sono le zuppe fresche ed è 100% vegetale era veramente buono, questo mi è piaciuto tantissimo vedete ha pure i crostini croccanti ed è davvero una porzione generosa io questo l'ho dovuto dividere con mio padre perché da sola non ce la facevo a consumarlo era veramente sostanzioso e poi vabbè anche gli ingredienti non sono male si sentivano moltissimo il gusto, il sapore dell'erbete e degli spinaci perché era verde quindi sembrava una passata di spinaci un passato di spinaci veramente veramente ottimo poi oltretutto vedete ha il cucchiaino dice dove vuoi ed è già pronto buona anche l'estate è buona in ogni occasione poi ho terminato questi biscottini al farro e riso germogliato questi sono della marca Germinal fonte di sali minerali senza latte e senza uova sono vegan questi me li aveva consigliati appunto alla mia amica Erika e io li ho voluti, li ho trovati per fortuna, li ho voluti provare assolutamente e mi sono piaciuti da matti la consistenza è veramente friabile il gusto buono del biscottino poi soprattutto imbevuto nel latte è qualcosa di meraviglioso buono 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 proprio il sapore e il gusto del biscotto di un tempo abbiamo terminato gelati durante il mese di ottobre che c'era ancora caldo abbiamo sentito la necessità di mangiare il gelato e quindi abbiamo comprato questo croccantino 5 stelle questi coni della marca Samontana alla vaniglia con la granella e crocanti di mandorle buono, aveva sapore di caramello e questo secondo me è uno dei coni migliori che fa appunto la Samontana noi lo compriamo quasi sempre assieme ovviamente a quelli algidi, a quelli classici e ci piacciono tantissimo sono veramente ottimi poi 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 abbiamo terminato questi pisellini della marca Carrefour sono biologici sono lavorati dal fresco 100% italiani questi lo stesso ci sono piaciuti tantissimo sono... si sente proprio il gusto del pisellino fresco lo ho portato qua, questo è il latte si sente proprio il gusto fresco e buoni non sembrano neanche messi così nel parattolo poi altra scatola dentro scatola allora anche questi sono i piselli finissimi questi sempre Carrefour però sono... non sono biologici ma vi devo dire che non ho sentito tanta differenza perché anche questi erano veramente ottimi sembravano proprio freschi freschi poi abbiamo terminato questo pane azimo 100% vegetale della marca Natura è senza lievito è senza sale aggiunto senza grassi aggiunti da agricoltura e biologica questo è un sapore molto particolare che all'inizio tu pensi ma cosa sto mangiando? cartone invece poi... invece poi... ah si ok ve li ho mostrati in italiano gli ingredienti invece poi dopo ti... il palato sembra che si abitui e ne vuoi sempre di più ne richiede sempre di più ti dà quell'effetto quella sensazione poi fregola sarda questa è quella media esiste anche quella fine quella grossa però non mi piace più questa ed è della casa del grano che dire questa è veramente ottima da condire in ogni modo quindi è buona con i frutti di mare è buona con il tonno con il salmone con i pisellini noi ultimamente anche per fare le gite tipo al mare l'abbiamo mangiata spessissimo con il salmone i pisellini e il tonno mescolata così era ottima buona 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 poi ho terminato queste noci sgusciate della marca Noverasco e sono 40 grammi di prodotto costano poco sono veramente ottime queste poi mi sono affezionata ormai a questo latte il latte parzialmente scremato è della marca Granarolle ed è biologico io questo l'ho provato anche intero e mi è piaciuto anche di più quell'intero sapete anche se rimane leggermente più grasso però è buono poi 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 altro latte Granarolle vedete poi ecco vediamo se qua dentro c'è qualche altra scatola no è da sola quindi ve la ricordate il preparato per torta margherita senza glutine della marca San Martino da preparare sono solo con olio e almeno 30% di grassi è un prodotto dietetico questa mi era piaciuta tantissimo vi ricordate l'avevo mostrata nel mio video what it in a day e a questa l'avevo fatta avevo aggiunto al posto di due cucchiai d'acqua avevo aggiunto due cucchiai di latte e avevo aggiunto anche le mele era venuta veramente buona 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 questa mi è piaciuta tantissimo me l'ha spedita la mia amica Angela poi questi sono i dadini di formaggio i biraghini i gran biraghi questi ve li ho mostrati anche un'altra volta sono 12 no per 12 mesi diciamo pensavo fossero 12 pezzi no sono esattamente 250 grammi di prodotto buoni questi ci piacciono tantissimo soprattutto a fine pasto non lo so sono sfiziosi poi abbiamo terminato questi cannelloni di carne della marca il pastificio Kossu anche questi sono buonissimi se li trovate da voi ve li consiglio sono 500 grammi di prodotto ci sono piaciuti veramente tanto questi molto 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 poi lo yogurt questo è delta uno yogurt greco 0% grassi della marca Iomo ed è al pistacchio io questo l'ho utilizzato per fare la mitica torta allo yogurt quella a sette vasetti se ben ricordate l'avevo anche già fatta in un altro mio video e l'avevo fatta con le barrettine kinder se non erro e appunto questa l'ho rifatta con questo yogurt sempre con le barrettine kinder sia sopra che in mezzo all'impasto era veramente buono buono con questo buon sapore di pistacchio e poi soffice soffice ancora di più si vede perché la consistenza dello yogurt al pistacchio è più cremosa rispetto a quello che utilizzavo io che era al cocco oppure alla vaniglia questo è molto più buono quindi vi consiglio di provare a fare la torta a sette vasetti con questo non ve ne pentirete poi abbiamo terminato questo bel bustone sono 500 grammi di prodotto se non erro no 400 e sono gli spinaci bonduelle dice già lavati e pronti da cuocere prodotto già lavato vedete anche se comunque io vi consiglio sempre di rilavarle queste verdure confezionate perché è capitato che le abbiamo cotte in padella così con un filo d'olio e poi le abbiamo mangiate e ci hanno fatto un po' venire a mal di panico quindi bisogna sempre lavare i prodotti confezionati di questo tipo però il sapore era veramente ottimo buoni poi crostatina questa a molino bianco ed è al cacao questa non non le avevano ancora fatte queste senza olio di palma magari adesso le troverò pure senza olio di palma poi 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 ho finito di rompere la confezione vediamo un po' se riuscite a capire qualcosa sì questi 6 muffin con ripieno al mirtillo buonissimi della marca mister day e sono senza olio di palma anche questi ci piacciono da matti soprattutto a me li mangio soprattutto io a colazione poi ho terminato questo stracchino della marca Conad ed è alta digeibilità e senza lattosio vedete delattosato dice questo mi è piaciuto veramente tanto sono 100 grammi di prodotto e sapete l'ho usato per farcire le piadine buono 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 mi è piaciuto davvero tanto un po' ultra digeibile ecco qua adesso arrivano le piadine allora questa io certo certo ossia sì la penso di averla comprata alla Lidl non ne sono sicura ma penso di sì ed è all'olio extravergine d'oliva questa diciamo che è la la piedina che mi è piaciuta di più in assoluto rispetto a tutte le altre vedete sono 300 grammi di prodotto ed erano tre piadine all'interno buona questa mi è piaciuta molto di più poi questa c'è ancora il prezzo attaccato è la sottilissima sfogliata Roberto questa gran piada con olio extravergine d'oliva questa non mi è piaciuta perché innanzitutto guardate gli ingredienti non sono sanissimi e poi a parte quello il gusto proprio non mi è piaciuto perché sembrava che fosse finta si dice se rotola si piega non si spezza però sembrava un po' gommosa non era bella croccante come quell'altra sapete riscaldata un po' in padella così che le dà proprio quella croccantezza però che non si spezza perché a me è capitato forse l'ho fatta riscaldare troppo io in padella di piegarla e poi che si formasse la crepa in mezzo con questa non succede perché è gommosa un po' gommosa sì mentre con le altre mi è capitato sì questo lo devo ammettere quindi almeno un pregio ce l'ha poi ho terminato questi grissini di kamut sono all'olio extravergine dolina da agricoltura biologica della marca conad anche questi ci piacciono tantissimo questi li abbiamo comprati spesso tante volte sono 200 grammi di prodotto e ci piacciono veramente tanto sono leggeri sono anche un ottimo spezza fame poi questi cosa sono i bonduel pisellini extra fini vedete però non questi non mi fanno impazzire come quelli findus questi li avevamo comprati sono un chilo di prodotto sì li avevamo comprati in assenza di quegli altri perché non avevamo trovato appunto quelli findus però no io preferisco molto di più quegli altri sì poi è pangrattato questo è senza glutine della marca cereal è un prodotto dietetico sono 250 grammi di prodotto questo ve l'ho straconsigliato in tantissimi altri miei video ve l'aveva consigliato anche mia zia franca vi ricordate nel video delle mitiche polpettine quindi la pasta al forno con le polpette e questo è eccezionale come pangrattato buono poi peperoncino di sardegna extra piccante macinato è pronto all'uso è biologico sono 12 bustine produzione propria dice buono questo peperoncino però non dovete abusarne perché è veramente forte questo pizzica moltissimo la gola e la bocca però buono 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 che dire poi allora abbiamo terminato questi grass piedi ve li avevo anche già mostrati questi grass piedi aia sono con carne di mi pare di pollo di tacchino di suino sì ok c'è scritto tutto questa è veramente buona noi li acquistiamo spessissimo questi spiedi ci piacciono veramente molto 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 poi un altro prodotto biologico sono queste pennette integrali biologiche appunto della marca Carrefour e queste le ho trovate veramente buone sono trafilate al bronzo sì stavo leggendo appunto trafilate al bronzo le ho trovate buonissime sia per il gusto che per il fatto che tengono bene la cottura quindi non è da poco che una pasta rimanga bella al dente poi 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 un prodottino buono buono che ho provato da poco è questo tonnettale di pesca biologico della marca Pan Panorama mi è piaciuto da matti allora l'ho provato sia così vediamo se lo trovo qua nei meandri del bustone l'ho provato sia alla pesca che all'albicocca eccolo qui vedete non si butta via nulla allora e vi devo dire che in parità mi è piaciuto molto di più quello alla pesca anche se anche quello all'albicocca mi è piaciuto da matti quindi questi ve li straconsiglio sono 3 brick per 200 ml di prodotto buono poi ho finito queste ve le ricordate i fusilli la pasta appunto farro e fave è una specialità integrale da agricoltura biologica ed è vegan ok questa l'avevo già mostrata nel mio video what it ne devi è veramente ottima questa pasta troppo buona infatti adesso che l'ho terminata voglio andare subito a ricomprarla questa è buona condita in ogni modo l'ultima volta me l'ero fatta con la zucca cotta in padella e l'avevo appunto fatta saltare poi avevo cotto la pasta e l'avevo fatta poi saltare in padella assieme alla zucca erano frutti troppo buoni troppo troppo buoni poi questo è il brodo di carne sì allora vi ricordate vi avevo mostrato il brodo di verdure melin la scorsa volta mentre questo è brodo con carne di pollo dice per tutta la famiglia ma questo lo mangia principalmente mia nonna che ha 98 anni e quindi dice buono semplice gustoso dice di rapida preparazione carne e verdure selezionate vabbè questo vi devo dire che io non l'ho assaggiato però vedo che mia nonna lo mangia con gusto quindi deve essere veramente ottimo ve l'ho voluto mostrare per quello se anche voi avete una nonnina così longeva allora glielo dovete far provare no io rompo sempre le confezioni aiuto non lo so se riuscite a vedere qualcosa spero di sì oddio sono una distruttrice di confezioni allora ho terminato questi San Paluani se si vede qualcosa sì sono in gusto classico ok sono senza olio di palma e questi sono vuoti non hanno marmellata io questi li avevo provati vi ricordate per un video assaggi li avevo provati all'albicocca con la marmellata di albicocca erano buonissime avevano sapore di pandoro questi non sono da meno io questi li ho comprati vuoti proprio per renderli belli grassi dato che è un prodotto più leggero l'ho reso più grasso dato che non ha olio di palma ho inserito l'olio di palma perché li ho tagliati al centro e ho spalmato tutta la nutella buono ogni tanto ci vogliono questi peccati di gola questi li ho trovati esattamente al Pan Panorama poi ho desiderato le mozzarella le mozzarelline valerata ogni tanto le compro questi bocconcini che questi sono buoni secondo me anche per farle appunto fritte tipo le mozzarella in carrozza ecco e questo mi piace tantissimo si sente proprio il buon sapore del latte anche con queste avevo farcito la piadina poi sempre un qualcosa di sardo ho finito questi maloredus quattro sapori sono spinaci pomodoro e zafferano la casa del grano questo è una tipica pasta appunto gnocchiettini che che si trovano qua da noi poi ho terminato queste nuvole alla panna questi biscottini buoni buoni però erano duretti la consistenza era dura della frolla intendo col miele di nettare di fiori sì miele di nettare di fiori sono 330 grammi di prodotto e sono della marca gentilini però gli ingredienti sono veramente ottimi altra confezione disintegrata perdonatemi ma io quando mangio strappo sono questi brios all'albicocca cereali hanno almeno 55% di grassi sono più leggeri e friabili rispetto ai classici brios sono della marca Ferrero insomma tutti voi li conoscerete questi poi 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 questo che cos'è ah questo era la la carne di di pollo fileni adesso non so se erano le fettine sottilissime o erano quelle impanate non ricordo comunque perché è stata buttata all'altra confezione non mi sono accorta e l'ho tagliato male scusatemi poi ho terminato questo il mio gran ragù classico della marca Star questo è veramente ottimo sia per arricchire un po' il sugo tipo questo è un trucchetto che fa spesso mia mamma quando ha poco sugo allora lo aggiungo un po' di questo e quindi lo rende più ricco e la pasta assume questo buon sapore appunto di ragù veramente ottimo ve lo consiglio poi altri altre merendine sane senza olio di palma sono queste della Lazzaroni Germovita sono integrali plum cake e non hanno l'olio di palma mi pare che questi li avevo provati in un altro video assaggi se ben ricordate poi altri spinaci questi sono della marca Bonduelle sono mille foglie e questi erano veramente buoni sono foglie intere integre e compatte è un prodotto surgelato però mi è piaciuto molto di più rispetto agli altri Bonduelle quegli spinaci che erano pronti che erano freschi diciamo lavati e pronti da essere cotti questi mi sono piaciuti molto di più questi surgelati poi ve la ricordate la tortina questa non ve l'avevo mostrata nell'altro video perché non so l'avevo dimenticata da qualche parte comunque ve la mostro adesso l'avevo terminato e provato in diretta assieme a voi questa marmorizzata senza glutine sempre della marca San Martino è sempre senza glutine però questa non mi aveva convinto tanto vi lascerò il video relativo alla prova assaggio su questa tortina poi 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 che buono buonissimo questo l'abbiamo acquistato per ben tre volte durante il corso di questa estate la cremeria italiana questa fior di latte buono della marca Motta troppo troppo buoni questi gelatini poi era veramente cremoso e anche se rimaneva un bel po' nel freezer poi tu lo toglievi e subito col cucchiaio io riuscivi a staccarne un bel pezzo ottimo poi mozzarelline questo è il triste sono mozzarella mozzarella Santa Lucia della marca Galvani poi olio extravergine olio extravergine d'oliva senza dire tonno all'olio extravergine d'oliva questo della Riomare eccolo qua questo mi piace tantissimo sta diventando uno dei miei tonni preferiti in scatola ovviamente poi formaggini dinky questi mi pare che mia mamma li trovi o all'Eurospin o al Carrefour ora non ricordo bene però io li ho assaggiati sono della marca Prealpi li ho assaggiati e mi sono piaciuti moltissimo lo sapete sono buoni come formaggini pensavo di no poi questi non possono mai mancare nei miei video dei prodotti terminati li acquistiamo sempre questi mi piacciono tantissimo poi anche d'estate messi nel frigo e mangiati così freschi sono veramente buoni non si sciolgono ecco non hanno quel sapore brutto di cioccolato sciolto in quel senso ora le signore che mi guardano sono diventate due diranno ma cosa fa quella ragazza sempre davanti alla cam qui alla finestra comunque sorvoliamo ok ho terminato queste punte di asparagi della marca Pampanorama sono 300 grammi di prodotto queste mi piacciono da matti poi i frullini questi della vita snella sono i frutti rossi però questi hanno l'olio di palma anche se dice che sono più leggeri con frumento riso e fonte di fibre però comunque sono buoni si sentiva molto forte il gusto dei frutti rossi questi me li ha spediti la mia micrangela poi altri dadini di formaggio questi sono parmigiano gli altri erano al grana padano e sono 100 grammi di prodotto sono buoni 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 anche questi poi bastoncini findus di merluzzo sono 12 bastoncini che dire anche questi buonissimi però preferisco di più quelli integrali ve lo devo dire poi abbiamo terminato questi savoiardi di sardegna e sono esattamente 250 grammi di prodotto poi una novità la panna al pesto anche questa ci è piaciuta tantissimo è senza aglio ed è veramente buona è della marca chef della marca parmalate scusate poi altri della casa del grano questa è la semola fine insomma la casa del grano fa tutta una linea di prodotti tutti i prodotti sardi veramente ottimi poi ravioli di ricotto e spinaci sono 500 grammi di prodotto sempre il pastificio ok ultimo prodotto finalmente ok dentro non c'è nulla questa camomilla no questa tisana scusate bonomilli rilassante con camomilla biancospino pasti flora ed estratto di valeriana questa a me piace da matti perché innanzitutto si sente il buon sapore delle erbe poi è vero che ti rilassa e mi piace soprattutto per il gusto che ha perché avevo provato quell'altra rilassante valeriana pura di che cosa era? l'angelica era dell'angelica sì ve l'avevo anche mostrata in qualche altro mio video però quella il gusto non è tanto buono lo devi dolcificare col miele o con qualcos'altro che la renda più appetibile mentre questa è buona è dolce dolce questa puoi anche non dolcificarla perché è dolce così ok finalmente il mio bustone è vuoto ed è pronto per essere riempito un'altra volta tanto non farò tardi a riempirlo state pur certi quindi adesso io vi mando un grandissimo bacione mando un bacione grandissimissimo anche a Erika e noi ci rivediamo al prossimo video ciao